Come Camera di Commercio del Gran Sosto d'Italia, competenza territoriale terra molabile, vogliamo incentivare i gruppi turistici per capitare nuovi flussi, per questo motivo abbiamo creato un bando per incentivare i gruppi a venire nei nostri territori e quindi hanno uno sgravio di 30 euro a persona per gruppi minimo 25 persone sulla terza notte. Questo è un contributo importante che in qualche modo vuole captare ancora più flussi turistici, quindi far scegliere ancora di più il nostro Abruzzo che è un territorio bellissimo, un territorio attrattivo, ma lo vogliamo rendere ancora più appetibile anche da un punto di vista commerciale e a livello economico. Quindi questo nostro incentivo a venire lo riportiamo a tutti gli operati turistici, a tutti i gruppi che vogliono in qualche modo venire in Abruzzo e anche i gruppi di scolaresco. Quindi venite in Abruzzo, nel territorio di Terra Mell'Aquila e vi aspettiamo per ospitarvi.